Ciao, un Torino diverso dal solito, forse vi aspettavate un'altra Inter, magari più in crisi? Belotti. No, non è il discorso dell'Inter in crisi, oggi abbiamo sbagliato nell'atteggiamento e si è visto, soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto anche poco coraggio, poca personalità nel fare le nostre giocate e c'era ammarico di aver regalato un tempo agli avversari. Il risultato è giusto secondo te? Se guardi le occasioni, dicono di sì, però abbiamo riuscito a pareggiare la partita e poi ha fatto quel gran gol Icardi, però abbiamo rischiato di prendere altri due gol prima, abbiamo fatto stati due salvataggi sulla linea. Tanticamente? San Siro è uno stadio importante, ha giocato grandi campioni e sicuramente è la sua fascina. Praticamente cosa è cambiato con l'ingresso di Maxi Lopez in campo, visto che hai giocato con un altro centroavanti di ruolo vicino a te? Siete riusciti a mettere più in difficoltà l'Inter rispetto al primo tempo? No, Maxi sanno le sue caratteristiche, sicuramente ha dato più qualità, ha dato più fisicità soprattutto davanti e anche lui con le sue giocate, con la sua forza, è riuscito insieme agli altri compagni a mettere un po' in difficoltà la difesa e soprattutto perché nel secondo tempo abbiamo avuto più coraggio nel giocare e più personalità nel fare le nostre giocate. Grazie. Grazie.